Ciao, sono Federico Balzaretti ed insieme ai nostri ex compagni del Palermo abbiamo deciso di partecipare a questa raccolta fondi intitolata Insieme per Palermo. Palermo è una città che ci ha accolto con tanto amore ed è giusto ridare parte di questo affetto. Il Covid-19 non è soltanto un problema sanitario ma anche un problema sociale. Il Comune di Palermo ha già accolto e raccolto più di 9.000 richieste di aiuto per beni di prima necessità. Ecco perché con Fondazione Sicilia e COP abbiamo deciso di aiutare le famiglie più bisognose. Con i proventi raccolti doneremo buone spese alle famiglie che ne hanno bisogno. Uniscite a noi, noi stiamo facendo squadra, uniscite anche tu.